Due sconvinte, sia pure in contesti e situazioni diversificate. Questo il bilancio del sabato di volley per le formazioni ofantina. A Foggia, l'Iposea Ulas esce a testa alta dal confronto della quarta di ritorno della Serie C regionale Uomini. I biancazzuri di Roberto Ferraro vengono sconfitti dalla capolista volley capitanata a Foggia con il punteggio di 3-1. 25-21, 25-21, 18-25, 25-20 i parziali, in un match adrenalinico ed entusiasmante. Autentico suicidio per la pallavolo cerignola nella sesta di ritorno della Serie D femminile. Sembra proprio indigesto vincere davanti alle muramiche e di fatto resta un tabù. Le fucsia di Michele Valentino cominciano bene, andando in vantaggio di 2-7, 25-21, 26-24. Poi accade l'inverosimile. Vitondo prima accorcia le distanze 25-22, poi pareggia 25-19 ed infine chiude meritatamente al time-break per 15-12. Interessante sfida in trasferta domenica per la libera Virtus Cerignola, che attualmente è al terzo posto della classifica del campionato di seghe B2 nazionali donne. Infatti, la quarta giornata del girone di ritorno prevede una trasferta contro l'Asia e Manbari. Le virtusine, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, sono reduci dalla bella vittoria ottenuta in trasferta a Benevento. Classici testa-coda attendono le formazioni dilettantistiche del calcio. Per la sesta di ritorno del campionato di prima categoria, l'audace Cerignola capolista ospita l'ultima in classifica, il Margherita di Savoia. Una sfida che segue la bella vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Torre Maggiore, che ha fatto dare agli Ofantini il dodicesimo successo utile con consecutivo. Ma è chiaro naturalmente che dopo questa sfida la tensione sarà puntata su giovedì 12 marzo, quando ci sarà l'appuntamento con la Coppa Puglia, decisivo per accedere alla finale della manifestazione. In incontri testa-coda anche per la seconda categoria, per le due squadre che stanno dando vita ai vertici della classifica, Sportamania Cerignola da una parte e Sauri dall'altra. La formazione guidata da Michele Schiavone è attesa alla trasferta di Carapelle contro la penultima in classifica, mentre il Sauri ospita in casa l'ultima, la Virtus Andria. Il distacco per quanto riguarda la formazione della Sportamania, che attualmente è in testa, è di 50 punti, ha due punti solo dalla formazione avversaria. Riscatti e beffe, questi gli esiti degli anticipi della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. La Sampdoria batte il Cagliari per 2-0 con le firme di De Silvestri e De Toe e mette nei guai i sardi di Gianfranco Zola che rischia l'esonero. Il Milan non sa più vincere in casa, costretto al pareggio al 94esimo 2-2 da un Verona spregiudicato quanto basta. Per la lotta a Scudetto, attesa per la trasferta della Roma al venticoli contro il Chiero. Ritorna il Parma in campionato dopo le vicissitudini legate alla sua crisi fidanziaria e attende al Tardini in Atalanta. Oltre alle sfide salvezza Cesena-Palermo, Empoli-Genua ed Udinese-Torino, l'attesa sarà anche per la sfida del San Paolo tra Napoli ed Inter. Si chiuderà poi il lunedì con due posticipi Lazio Fiorentina e Juventus Sassuolo.